Che fine ha fatto Carmen Sandiego, si chiedeva una popolare trasmissione degli anni 90. È la domanda che, nelle ultime ore, si sono posti anche i concorrenti del Grande Fratello. La, Carmene in questione è Anita Olivieri, sparita dai radar per circa un'ora senza che i coinquilini avessero idea di dove fosse finita. A farsi notare, al di là dell'evento insolito, è stata la puntuale e lapidaria reazione di Beatrice Luzzi, nemesi della 26enne. La bizzarra dinamica è saltata agli occhi dei telespettatori più attenti, che hanno spifferato tutto su X. Anita, secondo le ricostruzioni degli utenti, è stata convocata in confessionale, come da prassi. Massimiliano Varrese, in seguito, è stato chiamato a sua volta e si aspettava di raggiungere la Olivieri. Al contrario, il confessionale era vuoto. Preoccupato e stupito, il romano ha raggiunto Ciro Petrone, raccontandogli l'accaduto. Non si è vista prima ha replicato l'attore napoletano, ora ha il microfono lì fuori. Secondo me è successo qualcosa. Che è successo? Secondo me è successo qualcosa fuori. La notizia, in un attimo, ha fatto il giro della casa, scatenando una tensione generale. L'unica ad aver preso la scomparsa di Anita con filosofia è stata Beatrice Luzzi, schietta come suo solito. Ma non hanno detto che è inconfessionale? Ah, non c'è, che bello, ci siamo liberati di Anita. L'attrice e la bionda Gieffina non sono certo amiche per la pelle. Nella giornata di venerdì 10 ottobre hanno litigato furiosamente, perché la Luzzi ha nuovamente sorpreso la 26enne a parlare alle sue spalle del rapporto con Giuseppe Garibaldi.